Il prossimo autunno, per tre giorni, dal 6 al 9 ottobre, Lucca diventerà capitale internazionale dell'ambiente. La città ospiterà infatti il Pianeta Terra Festival, evento diretto dallo scienziato Stefano Mancuso, organizzato dagli editori La Terza e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La manifestazione presentata in San Micheletto si propone come una vera e propria festa del nostro pianeta e della vita che esso ospita e che dobbiamo difendere dagli effetti nocivi del progresso. L'ambiente, ha ricordato Mancuso, una volta era un argomento di nicchia, adesso invece è il principale dei nostri problemi e per questo il festival è un appuntamento che riguarda tutti. Ci saranno scienziati, ci saranno premi Nobel, ci saranno storici, ci saranno economisti, urbanisti, architetti, artisti, perché l'ambiente questa è la questione fondamentale, bisogna comprenderlo e qualche cosa da cui discende il nostro futuro e quindi qualunque ambito delle nostre attività verrà toccato. Tantissimi gli ospiti di assoluto rilievo, dal premio Nobel per l'economia Esther Duflo al professor Riccardo Valentini, componente del gruppo delle Nazioni Unite che studia il riscaldamento globale, passando per il popolare divulgatore scientifico Mario Tozzi. Tutti riuniti per fare il quadro della situazione e proporre soluzioni per salvare l'ambiente. L'evento è stato organizzato grazie al sostegno di numerosi sponsor, tra cui Sofidel e Banco BPM e dalla Fondazione Cassa. Noi speriamo veramente che da questa iniziativa nascano tantissime idee per quello che sarà veramente la strada che ci porterà a questa svolta epocale di una sostenibilità, di ciò che consumiamo affinché il nostro pianeta possa sopravvivere bene e soprattutto che gli esseri umani possano vivere bene nel nostro pianeta.